...della mia vita. Sì, è stato un bel culo. Italia 1! Omicidio. I precognitivi scrutano il futuro. Un duplice omicidio, fra 24 minuti e 13 secondi. La precrimine cancella i delitti. Mi dica esattamente cosa cerca. Difetti. Un sistema che mantiene al sicuro. Lei è in un mare di guardia. Vuole incastrarla. Può garantire la libertà. Tom Cruise. In un grande film di Steven Spielberg. Minority Report. Venerdì 21,5 Italia 1. Siate sportivi. Nuova Peugeot 307 Australian con navigatore GeoSat. Anche coupé cabriolet. E su tutte le 307, fino a 2.500 euro di vantaggi. Eccole lì. Prima non ho letto l'astrologa. Un'occhiata alla posta del cuore. Poi lo scoop. Il coniglio farcito con le cape sante. Guarda che ha la patta aperta. Fuori dai luoghi comuni. A è fuori. Anna ricomincia da A. A soli 50 centesimi. Cos'è ancora meglio della biancheria di seta? La pelle di seta. Per una pelle più bella, più morbida e splendente come seta. Prova la nuova linea DAV Silk Glow. Creme corpo, bagni e diodoranti. Liberati dal telefono fisso. Con Vodafone Casa il tuo cellulare diventa il tuo telefono di casa. e chiami da casa tua tutti i numeri fissi d'Italia a 0 centesimi al minuto. Oh, io ho staccato. Che fai? Vodafone. Life is now. Ecco, sistema il pallone. Siamo circa un paio di metri fuori dal limite. Tutto è pronto. Lunga rincorsa. Tiro. Ed è gol! Grandissimo! Golla! 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 We all speak football. Coca-Cola. Il cinema delle arti marziali. I film d'azione più spettacolari sull'arte secolare del Kung Fu. Il cinema delle arti marziali. In edicola terremoto nel Bronx. Con il grande Jackie Chan. Deliziosi croccantini di mandorla caramellata in una morbida crema alla vaniglia per un piacere più intenso e senza fine. Croccantino 5 Stelle Samontana. C'ho qui un paziente che c'ha la masticazione da puledro. Hai un consiglio da darmi? Ma non sei maniscalco? Eh, non ti preoccupare, c'ho Wind 5. Non hai superato l'esame di Stato? Mischino, raccontami! Non ti preoccupare, c'ho Wind 5. Posso parlare quanto voglio. Potete fare meno guazzampuglio, per favore. Con Wind 5 parli con tutti a 5 centesimi al minuto. Allora chiudo! Anche per i caricabili da Wind. Da più di 50 anni la nostra ricerca si prende cura della vostra salute e del vostro benessere. PRL si quota in borsa. Le azioni saranno offerte dall'11 al 18 maggio 2006. E un investimento in capitale di rischio. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo. Lei che è una faccia sveglia. Lo sa vero che con dare lenzi risparmio fino al 30% sull'RC Auto? Soprattutto se non fa incidenti? Si faccia furba. Chiami, chiami subito. E in più un mese di polizza gratis. Mettici alla prova. Chiama o clicca Direct Line. La caccia risparmio è aperta. Ops. Ma quanto è lungo sto caffè? Non sono così. Ma magari... T'era ragazzi, si va a casa. Scommettiamo un adrezzo. Una su, un po' con la... Io non sono così. Magari posso fare queste impressioni, ma non... Scusa. Ti è caduta questa? No, ma senti, no, ma ascolti. Ragazzi, si scusano, ma dovevano proprio andare. E' spagare. E' spagare. Amici per la DREF. Una bella schiacciata. Quello è crunchy. Anche questo. Per me questo è crunchy. EnerVid Power Sport. Oggi è anche crunchy. L'energia non è mai stata così buona. Passa Vodafone, casa. E passa. Vodafone. Life is now. Grazie, Papio. No, no. Es va. Abzai. Das war kein Hilfemeter. Ti guarderemo in Germania, Capitano. Lauf auf die Seite. Jetzt links abbiegen. Preparatevi anche voi a un mondiale alla Sky. Sky. Ich hatte links gesagt. Sky. Mai visto un mondiale così? Dare uno. Non ho ucciso quell'uomo. Giuramelo. Te lo giuro meglio. Per Michael Scofield. Il destino non è solo una questione di fatalità. Michael si è fatto arrestare perché ti crede innocente. Perché ci tieni tanto a vedere Barros? Perché è mio fratello. Ti porterò fuori di qui. In prima visione Italia 1. Io sono una zavorra. Trascino tutti a fondo con me. Prison Break. Da giovedì 18 maggio. Da giovedì.